Il sindaco di Naro Pippo Morello ha adottato le misure organizzative per concorrere efficacemente al processo di decertificazione della pubblica amministrazione. Dopo la normativa sulla semplificazione amministrativa approvata con la legge di stabilità, la pubblica amministrazione non può più richiedere ai cittadini la produzione di certificati a corredo di istanze, ma deve procurarsi direttamente i dati in possesso di altre amministrazioni. In quest'ottica il sindaco Morello ha disposto che gli uffici si organizzino in modo tale da poter rispondere alle nuove esigenze imposte dal sistema di semplificazione amministrativa e ha pubblicato sul sito web ufficiale del Comune di Naro le relative misure adottate. Tra queste spiccano quelle della posizione sui certificati rilasciati dal Comune della dicitura il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Quest'ultima dicitura consente infatti la validità dei certificati esclusivamente nei rapporti tra privati. Il sindaco ha anche incaricato l'ufficio dei servizi informatici, retto da Salvatore Lauria, di accelerare le procedure per la stipula di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per poter accedere alle banche date in loro possesso e per poter consentire l'accesso alle banche dati del Comune di Naro. In attesa della stipula di queste convenzioni, previste peraltro dal codice dell'amministrazione digitale, l'ufficio comunale dei servizi informatici supporterà gli altri uffici sia nella trasmissione dei dati richiesti da altre pubbliche amministrazioni, sia nell'acquisizione dei dati da richiedere agli altri enti. Tutti gli uffici comunali comunque attiveranno i procedimenti amministrativi sulla base delle dichiarazioni sostitutive o delle autogertificazioni prodotte dai cittadini.